amici di inter fan tv cuori forti nero azzurri bentornati da michele borrelli alle nostre video news è stata una giornata veramente triste per gli sportivi per gli interisti in particolare perché ci ha lasciato mario corso mario corso che noi associamo alla poesia non solo per qual era il suo calcio ma anche per quella filastrocca indimenticabile che inizia con sarti burgnicchi e facchetti e finisce proprio con però su arez e mario corso appunto la sua foglia morta la sua punizione a scavalcare la barriera che poi andava a cadere proprio come una una foglia la sua specialità sentivo oggi anche il racconto di bergomi che diceva che quando è stato allenatore dell'inter l'abbiamo rivisto quell'inter real madrid 3 a 1 in questo periodo di calcio non giocato lui era in panchina in quella stagione arrivò proprio durante l'anno a sostituire castanier vinse all'andata poi l'inter fu eliminata al ritorno tra episodi vari arbitrali ma diceva bergomi poi anche lo stesso zenga dopo la partita con il cagliari ha ricordato proprio corso come allenatore lo guardavano come un totem ma anche quando batteva le punizioni in allenamento faceva vedere a rumenighi agli attaccanti appunto come tirare diceva bergomi tirava delle cannonate perché è famoso per la punizione che cade proprio come un tocco di poetico e così come era anche a volte poi il suo incedere io ovviamente ho visto solo in in cassetta ma tante partite di quell'epoca con i calzettoni sempre abbassati si diceva era contro herrera perché era ogni anno lo metteva sul mercato ma poi alla fine il presidente angelo moratti non dava l'ok e restava ed è rimasto per tanti anni dal 57 giovanissimo a 16 anni primo marcatore giovane nella storia dell'inter ne abbiamo riparlato proprio quando esposito ha segnato col genoa perché lui aveva segnato a 17 anni tre mesi e cinque giorni mariolino corso nel 58 e poi fino al 73 quindi ha fatto in tempo a vincere non solo quei tre scudetti ravvicinati che potevano essere cinque quello del 64 e 67 persi e poi anche quello della rimonta sul mila nel 70 71 con invernizzi per poi chiudere la carriera al genoa si dice estro e sregolatezza però poi alla fine lui ha avuto continuità anche dal punto di vista delle prestazioni delle presenze delle partite giocate tanto da essere nella top 10 dietro a pochissimi a bergomi lo stesso zanetti che primo nella classifica delle presenze facchetti davanti a lui poi solo c'è sandro mazzola e beppe baresi e poi c'è subito mario corso più di 500 presenze più di 90 gol un giocatore che abbiamo sentito anche nei racconti essere dal punto di vista proprio del suo modo di giocare il classico giocatore da interno l'inter nasceva si dice sotto il segno dei pesci perché doveva essere una squadra anche che seguisse il talento la fantasia e mario corso con il suo numero 11 sulle spalle è stato uno dei più grandi esponenti da questo punto di vista proprio da far dire ogni volta che c'era un mancino così come è stato in altre occasioni dire mario corso come mario corso come corso per esempio il rapporto stretto anche a livello proprio di preferenze di genialità che aveva massimo moratti con recoba a tanti ricordava quello che era stato per angelo moratti mario corso anche se recoba la continuità invece a differenza proprio di corso non l'ha mai avuta aveva quel gran sinistro e quando si parla di sinistro appunto il piede sinistro di dio lo definì addirittura così il ct israeliano quando subì una doppietta nel finale disse siamo stati puniti dal sinistro di dio e vedremo tra poco anche le prime pagine dei giornali come lo ricordano proprio con questi soprannomi ce n'erano tanti anche mandrake o veniva soprannominato in altri modi proprio sempre per sottolineare come lui la partita la potesse decidere spesso con una giocata con un tiro all'incrocio con queste punizioni dal limite che andrebbero forse accostate a tutti i grandi battitori di punizione della storia per capire qual era il più grande mi hai lo vice ultimamente ha detto no ma chi è il più grande tra giuninio pernambucano zico o maradona sono io il più grande perché ho fatto più gol e poi mi hai lo vice ma lo stesso platini o pirlo negli ultimi negli ultimi anni speriamo ericsson anche se con il destro l'abbiamo già assaporato nel derby una punizione bellissima sotto la traversa e tra un po parliamo anche di probabili formazioni perché si torna in campo ma tornerò anche ripeto con le prime pagine dei giornali a quello che è stato mario corso perché mario corso poi ecco ho detto non l'ho visto giocare perché giocato dal 57 al 73 ma ho potuto conoscerlo e apprezzarlo da vicino nelle serate dedicate ai tifosi dell'inter nei club perché era una persona che mito da una parte ma dall'altra persona disponibilissima sempre tra i tifosi oggi quanti tifosi mi ha colpito questo hanno postato le loro foto in una serata di un club sempre spesso a rappresentare l'inter con anche bedi moratti che è sempre anche tra i tifosi la sorella di massimo moratti anche ambasciatrice presidente onorario degli inter club adesso c'è anche berti che ha iniziato il ruolo di ambasciatore ma corso c'era corso c'era quasi sempre e aveva sempre la massima ripeto disponibilità e anche quell'umiltà che forse quando ha fatto l'allenatore non so veniva visto sì grande intenditore di calcio ma magari non ha quel carattere per andare a essere anche un po' mediatico forte con i giocatori lui era di poche parole anche quando doveva spesso c'erano delle battute ficcanti no poche parole ma non banali non di circostanza no quando doveva dare un'indicazione la dava e oggi per esempio mi hanno colpito anche le parole di paolo condo che ha detto di aver condiviso alcuni viaggi per alcune partite perché corso poi ha fatto anche l'osservatore nell'inter e gli piaceva molto era colpito da come gli aveva pennellato un po con qualche parola le caratteristiche di un giocatore che poteva interessare che poteva essere interessante per il futuro quindi un un grande interista l'inter come l'ha definito qualcuno io oggi mi sono permesso di scrivere ci ha lasciato una leggenda un mito un campione un uomo che è l'inter mario corso il piede sinistro di dio perché con quel soprannome un po accostato la sua arte il suo modo di interpretare il calcio al divino perché poi sono quelle giocate quell'espressione di arte che ci fa appassionare amare il calcio e l'inter poi è stata sempre una squadra di grande talento e quindi ancora di più rappresentata da un giocatore così vi dico solo un paio di riflessioni ho parlato di bergomi di zenga che l'hanno avuto come allenatore ma invece di giocatori che hanno convissuto che hanno avuto insieme a corso la fortuna e il piacere di vincere poi tanti trofei come guarneri che ha detto oggi io più di tutti mario l'ho vissuto in prima persona perché non tutti probabilmente lo ricordano ma io e mario vivevamo insieme quando giocavamo all'inter stavamo in porta romana nell'abitazione di una signora vedova dormivamo in una grande stanza con due letti poi mangiavamo al ristorante parlava poco ma poi picchiava dentro sempre la sua battutina scherzosa velenosa poi si diceva anche quei calzettoni arrotolati perché era uno che andava all'ombra si metteva all'ombra quando c'erano quelle giornate in cui magari non voleva tanto sudare e dice invece guarneri no quello era impossibile perché durante gli allenamenti errera era intransigente con tutti non potevi rallentare poi è vero non aveva la fisicità di jairo facchetti ma a suo modo corso era sempre avanti agli altri lo era grazie al suo cervello al suo sinistro glielo dicevo sempre con lui la palla arrivava a destinazione con un passaggio anziché due negli ultimi 40 metri illuminava il gioco letteralmente accendeva la luce poi dice sulle punizioni ne avevamo di gente capace di battere le punizioni pensate solo a suarez ad esempio e considerate sempre come erano i palloni che usavamo a quell'epoca specialmente quando erano bagnati ma quando c'era un calcio piazzato mario arrivava si avvicinava sornione al punto di battuto e poi dipingeva come contro il liverpool la famosa foglia morta appunto con liverpool ne avevo parlato anche per però perché proprio in quella partita la semifinale di ritorno di champions league quindi i giocatori ripeto che a volte hanno l'estro la punizione ma qui c'è la capacità anche di metterla in mostra quando serve nella semifinale di champions league di coppa dei campioni come giustamente si chiamava partecipavano solo i campioni nazionali gol di corso su punizione poi però facchetti nel secondo tempo l'inter va in finale la rivince la coppa dei campioni nel 65 quello era il 12 maggio 65 ma poi c'è anche il 26 settembre del 64 la partita che in un servizio io avevo definito sport 24 la partita più lunga di sempre perché ci fu l'andata il ritorno con l'independiente non si contava la differenza reti se c'era una vittoria per parte si andava a fare lo spareggio e si andò al bernabeu supplementari la decide mario corso con quello stop di petto e poi il tiro di sinistra con la calma dei dei campioni e quindi lo ricordiamo con delle sultanze con i gol con le sue giocate però ripeto anche per quello che ci ha ci ha detto quando l'abbiamo incontrato mi riferisco a tutti quelli che l'hanno conosciuto nelle serate dei club poi racconta anche guarneri quella sera con il disco dato da mazzola al a chi poteva poi alla fine della partita rispondere a quel when the saints go match in in che avevano cantato a liverpool la rimonta mentre burnic dice aveva il suo modo di fare ti prendevo un po in giro ma ad esempio io con lui non ho mai litigato nemmeno una volta era un calciatore eccezionale tecnicamente fortissimo era un po vagabondo in campo ma si allenava con costanza anche oggi sarebbe stato uno dei migliori giocatori al mondo e al tempo lo era era il massimo questo è veramente un bel ricordo anche di burnic che dice era l'inter e vediamo anche come lo hanno ricordato come lo ricordano la gazzetta sportiva carriero sport tutto sport i giornali sportivi di domenica che ovviamente fanno anche il loro grande in bocca al lupo così come ancora noi lo ripetiamo dopo la puntata di di ieri su interfant tv ad alex zanardi che sta lottando tra la vita e la morte forza alex già ha fatto una volta un miracolo anche stasera zenga diceva speriamo che davvero abbia più vite come già dimostrato una volta zanardi lotta resta gravissimo ma c'è speranza questa è la gazzetta sportiva di domenica così come poi si parla dell'inter che caccia al 13 perché 13 partite di campionato deve fare con la squadra e contetra con le sue parole che ci crede ma tra un po parliamo anche di infortuni e poi di mercato e vedete corso qui la foto notizia a centropagina con una sua esultanza addio al mancino che illuminò la grande inter alle 21 e 45 a san siro c'è la sampi i nerazzurri non possono più fallire la rincorsa di conte vincerle tutte sognare lo scudetto ha detto conte con un successo andiamo a meno sei non è una distanza abissale lucaco lautaro all'assalto si ferma pure brozovic alle 19 e 30 invece il calcio torna a bergamo la città più colpita dal covid c'è da dire che dopo vesino dopo sensi si ferma anche brozovic questa è la brutta notizia dal campo perché tutti a centrocampo risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni ma si parla di un'assenza già poi sono partiti ogni tre giorni con la samp col sassuolo sicuramente ma credo anche a parma chissà tra brescia e bologna tra l'uno e il 5 luglio di recuperare di recuperare brozovic sarebbe molto importante quindi chi può giocare al posto di brozovic io credo che agli ardini favorito su borca valero di solito ha giocato borca valero ma oggi l'inter parte col 3 4 1 2 non col 352 che può sembrare un dettaglio ma potrebbe essere decisivo nella scelta anche borca valero ovviamente non sono tre partite in una settimana questa è la prima quindi potrebbe giocare anche borca però dal punto di vista concettuale del mettere insieme il giocatore fisico il giocatore che corre il giocatore che può proteggere ericsson la coppia gagliardini barella potrebbe essere forse funzionale con ericsson trequartista però ripeto ballottaggio che ci porteremo fino al fischio d'inizio e noi lo fino al fischio d'inizio un'ora prima quando saranno ufficiali le formazioni dalle 21 e 30 ci colleghiamo su interfantv per forza ragazzi quindi seguiteci seguiremo poi anche le interviste nel post partita ma già dal pre partita ci colleghiamo dalle 21 e 30 si gioca alle 21 e 45 intanto il torino ha pareggiato 1 a 1 con il parma sbagliando anche un rigore con belotti mentre ha vinto 2 a 1 il verona contro il cagliari di zenga in 10 uomini il verona dopo il 2 a 0 poi doppietta di carmine poi il 2 a 1 di simeone cagliari che resta in 10 e non riesce a pareggiare il gol invece del parma era di cucca pareggiato il gol di inculu di testa quindi il verona che scavalca il milan il parma che lo raggiunge ricordo che la settima in classifica al momento il verona dovrebbe fare tre turni preliminari di uefa di europa league 17 24 e primo ottobre quindi tutto particolare anche l'approccio alla prossima stagione il rompi pallone di genegnocchi che ci regala sempre un sorriso è dedicato proprio a mario corso e ci scrive ci ha lasciato mario corso qualcuno lassù si è ripreso il suo piede sinistro ed è bello anche no ricordare appunto corso così andiamo sulle partite prima che mi commuovo troppo alex super alex zanardi lotta resta gravissimo ma c'è speranza i medici in coma però è forte inchiesta sugli organizzatori il camionista indagato me lo sono trovato davanti il nostro amico al titanio scrive paolo condo nel suo spunto poi ancora rimpianto il rimpianto e toro il gol di inculu un gol per floyd l'esultanza anche con in ginocchio appunto per la lotta contro il razzismo pari del parma zazza e belotti si buttano via il verona in volo batte zenga sorpassa il mila sulla via d'europa juve cr7 sarri mai così lontani ma per lo sprint per lo sprint scusate serve una svolta prima di andare a il corriere dello sport e a tutto sport vi volevo anche dire di possibili scelte per quanto riguarda ranieri che da vecchio volpone sperto uno dei pochi allenatori che ha vinto un trofeo adesso si è aggiunto gattuso in serie a con conte simone inzaghi sono loro non sono tanti perché sarri appunto ha detto mi girano i c perché non ho vinto ha vinto a livello diciamo non di serie a ma ha vinto l'europa league in inghilterra ranieri potrebbe schierare la samp col 352 alle assenze dell'inter nella samp risponde l'assenza di quagliarella probabilmente anche ferrari e collei dietro ma soprattutto quagliarella davanti quindi 4 4 2 o 352 sembra proprio che potrebbe essere 352 con gabbiadini affiancato da ramirez più dell'ex bonazzoli sugli esterni murru e de paoli a centrocampo linetti e cdalle iancto dietro berezis chitonelli yoshida questa dovrebbe essere la samp con audero in porta torniamo alle prime pagine dei giornali con il corriere dello sport che apre anche con l'inter tra campo e il ricordo di corso eccolo qua il gioco di parole semplice con conte e allora è conte alla rovescia qui vediamo lautaro e lukaku ripeto tra poco parliamo anche di mercato tramite i giornali francesi e spagnoli e tra un po vediamo perché francesi e spagnoli intanto corso eccolo qua con il calcio ha perso il suo poeta mancino morto mario corso aveva 78 anni avrebbe compiuto ad agosto 79 con l'inter vinse tutto sulle punizioni più romantiche a un posto d'onore tra i nerazzurri indimenticabili scrive franco re canatesi fra coloro che hanno partecipato a fare del calcio un'arte c'è sicuramente mariolino corso lo dico non solo io che ahimè l'ho visto giocare ma scienziati del pallone poeti romanzieri che ne hanno cantato le gesta corso ha ispirato persino il titolo di un libro firmato da edmondo berselli il più mancino dei tiri e torna il riferimento al mancino appunto anche facendo riferimento al giocatore mancino come quello che mette il genio la giocata che rompe gli schemi chissà nel calcio d'oggi dove spesso la parte atletica la tattica sovrastano un giocatore così avrebbe fatto ancora di più la differenza alex non s'arrende restano gravissime le condizioni di zanardi ricoverato a siena preoccupazione per il quadro neurologico e le lesioni agli occhi i medici la sua fibra è molto forte sta rispondendo alle cure aperte un'inchiesta l'autista del tiro sterzato ma in vano un uomo esagerato scrive giancarlo dotto perché dice rinizia il suo articolo dicendo così ora dorme riposa vegliato e protetto dalle persone giuste indurlo con i farmaci a un sonno profondo è l'unico modo per fermarlo grande grande zanardi speriamo davvero che possa possa farcela ancora una volta torniamo con queste notizie veramente difficili anche da commentare a una cosa molto più banale il campo che però abbiamo aspettato per più di tre mesi proprio per tutte le tragedie che in questo 2020 hanno veramente attraversato l'italia ma ma non solo antonio è bello carico con la samp la prima delle cinque tappe della risalita inter le cinque tappe perché l'inter avrà quattro partite al meazza quindi sassuolo già mercoledì dopo la samp poi il parma di domenica e brescia e bologna in casa il primo il 1 il 5 luglio una svolta alla giovanotti scrive roberto perrone perché dice antonio conte pensa positivo seguendo l'ideologia di uno dei moderni filosofi italiani giovanotti e questa la novità vede la stagione dell'inter tutt'altro che perduta e dopo lo stop in coppa italia le ambizioni del tecnico rilanciate da un calendario favorevole in questo finale di stagione le parole di conte non ci poniamo limiti ma il centrocampo perde pezzi si ferma anche brozovic e qui sarà una lotta anche a chi ha meno infortuni a chi utilizza di più la rosa con il turnover tra domenica e mercoledì a chi fa più cambi le cinque famose sostituzioni io spero che si cominci a fare queste sostituzioni nell'intervallo magari gli esterni magari solo uno non due quindi i cambi e il turnover e poi sugli infortuni qualcuno ha già detto pintus coratti perché conte li aveva nominati come metodo anche la preparazione un allenamento al giorno ne abbiamo parlato ieri sera con una sosta ogni sei giorni non è proprio la preparazione estiva ma comunque non puoi non riempire il serbatoio dopo un lavoro personalizzato ma vecino il problema se lo portava da prima sensi ha avuto tanti problemi quest'anno brozovic no però non è solo l'inter la juve si è già fermato alexandro si è fermato che dira ancora anche lui recidivo la lazio lulic hanno avuto problemini tanti giocatori già adesso prima di iniziare su questo ci dobbiamo abituare praticamente probabilmente scusate potrebbe essere aggregato già in panchina perché l'inter ha 25 giocatori diciamo di prima squadra compreso esposito non calcolo agume e pirola tolti i tre disponibili scende a 22 quindi un posto per la panchina c'è c'è padelli squalificato perché era stato espulso in juve inter quindi stankovic philip stankovic dovrebbe andare in panchina insieme a a berni il ventitresimo posto un centrocampista perché altrimenti c'è solo borca valero o gagliardini a seconda di chi sostituisce brozovic quindi mi aspetto agume favorito su schirò o gianelli anche ma credo più agume in panchina cagliari k o zenga fallisce la prima la b è subito sprint ora tocca inzaghi pari di crotone frosinone salerritana le lacrime di filippini per la madre vi dico anche che in classifica dicevo il verona superate a 38 questi sono i recuperi quindi a solo un punto dal napoli il verona il parma insieme al milan ottavo a 36 mentre il cagliari resta a 32 a più 7 su genoa e lecce mentre il torino va a 28 con questo pareggio solo a più 3 dalla salvezza genoa e lecce la sampe a 26 e affronterà l'inter l'ultimo recupero atalanta sassuolo domani prima dell'inter l'atalante a 48 a meno 6 dall'inter mentre il sassuolo è a 32 insieme al cagliari ultima prima pagina italiana con tutto sport che ricorda ovviamente anche mario corso eccolo con corso a dio mario sinistro di dio e l'inter con la samp senza brozovic mentre la dea per bergamo zenga battuto verona da europa alex non mollare il titolo per zanardi e poi torino juventus come sempre sotto sport segnali di toro e juve svolta a sinistra segnali di toro ovviamente per la partita giocata abbiamo detto dei marcatori clamorose occasioni ancora rinviato il ritorno alla vittoria ma almeno i granata hanno interrotto la serie di 6 ko consecutivi ci eravamo lasciati così prima della sosta juve svolta a sinistra senza alexandro infortunato come dicevo le soluzioni per l'immediato sono o de ciglio o danilo olander 23 beruatto il futuro invece emerson palmieri si tratta con il celsi quindi juventus che potrebbe andare su emerson palmieri iniziamo con il mercato dicevo dai giornali francesi perché vedete la notizia prima che dalla francia è arrivata dalla spagna perché cavani potrebbe essere un futuro giocatore dell'atletico madrid ma non è detto ne hanno parlato in spagna e vedete che si giocherà senza di loro cavani e muni e cosa la champions league per il pari san germain ad agosto perché edinson cavani e thomas munier quando hanno poi saputo che non ci sarà un futuro nel pari san germain hanno rifiutato di prolungare il contratto di due mesi e quindi una brutta novità per il club parigino titola l'equipe quindi cavani che già sul mercato l'inter però l'operazione subito non la fa non la può fare perché bisogna vedere lautaro resta o no sanchez si riesce a prolungare per un anno no e se restano lautaro e sanchez è difficile che il quarto possa essere cavani sia parametro zero ma chiede se chiede 10 milioni bisogna vedere poi si accetta i sette e mezzo quindi newcastle outsider con il nuovo proprietario atletico madrid se fanno pace se rezzo il presidente che aveva detto ci vogliono derubare con il contratto che hanno chiesto le commissioni e la mamma di cavani che aveva detto che ci deve chiedere scusa il presidente dell'atletico madrid vedremo se quel precontratto andrà avanti dopo che l'atletico si è un po tirato indietro dopo la crisi e se cavani aspetta l'inter può tornare in corsa un po più in là dopo aver risolto le altre le altre situazioni le altre situazioni soprattutto quella di lautaro e si parla di lautaro si torna a parlare di lautaro visto che il barcellona ha pareggiato col seviglia e il real madrid può agganciarlo in vetta se vince allora sport devia un po di nuovo sul mercato e cosa titola sport solo un crack si prende o lautaro o neymar e ritorna il discorso tra dirigenza e parte tecnica la complicata trattativa con l'inter per lautaro apre il dibattito nel barcellona sulla priorità di poter andare a virare per recuperare e far tornare neymar la parte sportiva e l'allenatore preferiscono prendere un attaccante centrale quindi lautaro però il brasiliano ha la fiducia o diciamo la preferenza se vogliamo così definirla dell'area direttiva cioè dei dirigenti perché sarebbe l'unico acquisto stellare a livello anche di nome che potrebbe fare il barcellona il barcellona ha dieci giorni intanto anche per trattare pianic perché mettono una deadline secondo sport alla fine di giugno questo è sport vediamo velocemente anche mondo deportivo ass e marca con mondo deportivo si va alle proteste picados con il bar perché loro questa arroganza ce l'hanno anche quando non vincono e c'è sempre un motivo quando devono comprare comandano loro quando non vincono c'è l'arbitro qui il problema è il var molestos por las decisiones della sala dei video quindi sono arrabbiati per le decisioni del bar l'atletico madrid invece vince 1 a 0 riaggancia il siviglia che aveva pareggiato ed è già terzo era fuori dalla zona champions prima del della sosta andiamo anche a madrid con as e marca eccolo qua il real madrid che dipenderà da se stesso si gioca contro la real società di odegaard la sfida la prima posizione perché ora a tre punti e vincendo tra l'altro anche lo scontro diretto a favore lo vediamo anche da marca che più o meno punta alla stessa cosa come as ensus manos quindi nelle sue mani il destino il real madrid perché se vince va primo a parità ma con gli scontri diretti quindi il madrid già dipende di si mismo da se stesso dipende se pondria leader si gagna oi se vince oggi diventa leader real madrid barcellona unico campionato veramente aperto insieme a quello italiano perché quello francese ha vinto il paris angela e ne è chiuso quello del tedesco ha vinto il bayern a due giornate dalla fine è matematico in inghilterra si aspetta solo la matematica per il liverpool manca veramente si contano i giorni le partite potrebbero essere uno o due due in italia invece si riprende ed è aperto e speriamo davvero che la sorpresa possa essere l'inter ripeto anche su sanchez l'inter continua a lavorare per prolungargli il contratto fino a fine agosto e chissà anche per la prossima stagione così come per lautaro cambierebbe totalmente poi il mercato attaccanti mentre se parte lautaro o sanchez cavani può tornare d'attualità anche se poi la preferenza del giocatore può potrebbe essere per la spagna un caro dipende anche poi se loro vanno ad alzare l'offerta rispetto all'inter che non ha intenzione di andare a offrire più di sette e mezzo ma non in questo momento non in questo momento adesso concentriamoci sul campo due partite in tre giorni sampdoria e sassuolo la juventus a bologna lunedì la lazio a bergamo mercoledì il calendario in questi tre giorni è favorevole ma bisogna sfruttarlo perché altrimenti rimane teoria quindi andiamo a vincere queste due partite vediamo di fare questo doppio passo a 60 e chissà che la lazio da 62 non vada tanto oltre la juventus da 63 chissà che non vada tanto oltre ci vediamo alle 21 e 30 domenica un caro saluto e magari scrivetemi anche un vostro aneddoto ricordo se magari anche chi ha più anni l'ha anche magari vissuto o solo conosciuto da tifoso un ricordo di mario corso nei commenti come già avete scritto su tutti i nostri social nella giornata di sabato ciao ciao a tutti buona estate iniziale estate ricomincia il campionato speriamo davvero che tante brutte notizie di questo primo prima parte di 2020 possano essere quantomeno un po pareggiate da belle notizie in successione da adesso in poi ciao ciao da Michele Borrelli e sempre Forza Inter ciao ciao Mario